e riprendiamo la nostra rassegna stampa sportiva tornando sui principali titoli dei quotidiani nazionali dedicati appunto allo sport adesso approfondiamo quanto dedica il Corriere della sera ai trionfi di Nibali possiamo vedere qui a tutta la pagina viene definito il gigante della montagna Nibali altra impresa il tour è suo sembra facile non lo è stato dichiara il grande talento italiano il che domina Tourmalet e Utakam quarta vittoria di tappa in classifica Pinot è a 7 e 10 il commento a lato sempre sulle pagine sportive del Corriere della sera legato appunto alle imprese di Nibali a cura di Paolo Tomasselli è dedicato a questa grande vittoria ha sconfitto anche i fantasmi Nibali che si sofferma poi sull'aspetto cromatico di queste sue imprese francesi questione di colori ci credete che il giallo è un colore che non mi fa impazzire preferisco il giallo del Messina ha dichiarato il talento del ciclismo italiano e sul quale si continua l'approfondimento sempre del Corriere della sera viene approfondito lo spazio dedicato alla sua carriera con questo articolo a lato dall'Etna ai Pirenei lo squalo Enzo una cosa dell'altro Munno tornando ovviamente a quelli che sono anche le pronunce le accentuazioni della sua area geografica ma c'è spazio anche come abbiamo visto in apertura per ciò che riguarda la squalifica shock del basket sempre sulle pagine sportive del Corriere della sera squalifica shock a Kett fermato per 26 giornate è una notizia davvero di portata nazionale la fuga del ritiro della nazionale costa carissima al playmaker Milano tornerà sul mercato e potrebbe licenziarlo per giusta causa e ovviamente si fa anche si dà anche il giusto spazio alla nuova serie A di basket con il calendario che presenta come abbiamo già visto la prima giornata già un importantissimo Varese Cantù sempre sulle pagine sportive del Corriere della sera c'è l'approfondimento sulla Formula 1 con Wolf che dichiara occhio alla Ferrari la vedo motivata il team principal della Mercedes guarda già al 2015 mai mi sarei aspettato un dominio simile ma lavoriamo anche per il futuro sul Corriere della sera ovviamente c'è anche ampio spazio sull'approfondimento legato alla FIGC che abbiamo già visto sugli altri quotidiani nazionali elezioni FIGC la serie A copia la B Albertini scaricato via libera a Tavecchio Juve e Roma non firmano il documento e sono quindi le uniche due società di serie A a non appoggiare quindi 18 su 2 appoggiano il candidato Carlo Tavecchio il vicario di Abete sarà dunque eletto l'11 di agosto sempre sul Corriere della sera c'è un box dedicato alle amichevoli estive la Roma vince contro il Liverpool Udinese e Torino KO al lato del Corriere della sera si parla del caso Vidal che avverte la Juventus non so se resterò e questo è quanto riguarda il Corriere della sera passiamo invece noi a dare un'occhiata a quanto c'è sulla pagina sportiva di Repubblica ovviamente torna in primo piano con questa foto trionfante Nibali Nibali capolavoro finale mette la firma sui Pirenei Parigi lo aspetta in giallo un corridore dal cuore piccolo avrebbe gestito la corsa ed è un trionfo umano i suoi tempi sono superiori a Ries e Armstrong e poi ci sono i vari approfondimenti i vari aspetti di questo diario di una impresa con Nibali che dichiara non sono il padrone del tour ma uno che si è impegnato per vincerlo volevo lasciare un segno qui e ci sono riuscito la pulizia poi del ciclismo vista appunto da Nibali il passato è passato c'è un altro ciclismo le mie non sono state prestazioni mostruose mi sono veramente divertito e poi i rischi della folla serve più attenzione su quella ragazza se quella ragazza mi avesse urtato nella discesa della Madeleine poteva finire peggio e poi infine si parla del suo soprannome da ragazzo ero bassino un amico di mio padre mi chiamava Pulce come Trueba poi sono cresciuto questo per quanto riguarda ovviamente il ciclismo torna poi come è logico aspettarsi anche un'ampia pagina anche sul Repubblica sul calcio mercato e primi gol la Roma sogna ufficializzato l'acquisto di Astori la squadra di Garcia convinta di aver colmato il gap con la Juve a Boston contro Liverpool mette a segno il primo successo nella tournée americana domani sfida lo United e poi c'è l'approfondimento dedicato alle trattative di mercato Milan Balotelli all'Arsenal per Campbell e 15 milioni con la possibilità appunto che Mario Balotelli varchi la manica e appunto vada a giocare nel campionato di Premier League ancora sulla Repubblica il caso del mercato Madrid e James Mania o James Mania come vogliamo definirla ordinate 345 mila magliette e il fatturato del Real vola la camisetta di Rodriguez ha già portato a Perez 35 milioni quasi la metà di quanto è costato sempre ancora sulla Repubblica prima di tornare agli approfondimenti del web si dà ulteriore risalto al campagna elettorale di politica sportiva la Serie A con Tavecchio Agnelli attacca ancora metodi non democratici elezioni FIGC il numero 1 Bianconero rinuncia al Consiglio federale meglio le primarie gli unici no sono quelli di Agnelli e della Roma che hanno appunto votato contro la candidatura di Tavecchio Carlo Tavecchio in questo approfondimento 71 anni classe 43 attuale presidente della Lega Nazionale di Lettanti e quindi è suo è lui il nome su tutti che sembra aver sbariato tutte le possibili ipotesi compresa quella recentissima di Albertini Carlo Tavecchio sarà il prossimo presidente della FIGC prima di continuare la lettura dei nostri giornali vediamo che cos'altro c'è sulle pagine web appunto dei principali quotidiani sportivi nazionali e si riprendiamo proprio da dove hai lasciato Daniele perché sul Corriere dello Sport.it ci sono alcune dichiarazioni recenti proprio di Tavecchio che si è presentato proprio questo oggi ha detto non sarò re Travicello il candidato alla presidenza della FIGC ha detto fino a 50 anni un compromesso l'ho fatto da direttore di banca e sindaco a 70 anni di compromessi non ne faccio mica non voglio certo diventare il più ricco del cimitero ha detto Carlo Tavecchio ecco poi viene ripresa questa dichiarazione continuiamo proprio con quello che ha detto il probabile neopresidente FIGC chi crede che stiamo andando a creare un re Travicello si sbaglia ho in mente la dignità della federazione la federazione è la madre per la quale le leghe possono fare la Champions l'Europa League e le competizioni internazionali senza la federazione le leghe non potrebbero iscriversi dobbiamo dare alla federazione la dignità di soggetto referente lo ha detto Carlo Tavecchio che è il candidato alla presidenza della FIGC come dicevamo molto probabile intervenendo a Fiumicino all'assemblea straordinaria elettiva della Lega di Lettanti hanno parlato anche Beretta e Carraro a questo proposito Beretta ha detto anche che chi non ha sottoscritto la candidatura ha tenuto a sottolineare che condivide le proposte che abbiamo elaborato e in parte condiviso con il presidente Tavecchio ci sono tutti i presupposti per fare un lavoro straordinario in bocca al lupo da parte di tutti queste erano le parole di Beretta mentre Carraro ha detto è la prima volta ha detto invece Caira che la Lega di Lettanti propone il proprio presidente alla guida della FIGC Carlo Tavecchio non viene dall'alto ma dalla gavetta più dura conosce i mali endemici del calcio essendo un pragmatico saprà come risolverli la sua vulcanica testa è quella di un 30-40enne con esperienza della sua età anagrafica è il massimo che si poteva ottenere ecco invece quello che ha detto Franco Carraro ex presidente del CONI ex presidente anche della FIGC Antonio Materrese il consigliere federale e patron della Lazio Claudio Lotito la federazione si sta rivolgendo al mondo dei dilettanti ha detto Carraro lo zoccolo duro della federazione il calcio italiano si rivolge al mondo del volontariato più numeroso è importante anche sul piano etico perché il calcio italiano vuole ripartire da valori veri Carlo Tavecchio è poco glamour ma è affidabile e solido queste dichiarazioni in merito al probabile nuovo presidente della FIGC andiamo invece a vedere sulla versione online della Gazzetta e dello Sport perché arrivano delle rassicurazioni di Marotta per i tifosi della Juventus su Vidal Vidal non si discute, resta Eto non dico gatto se con puntini sospensivi ovviamente il detto reso famoso da Trapattoni andiamo a leggere proprio nell'approfondimento quanto ha detto l'amministratore delegato bianconero ieri Arturo è stato frainteso lui ha un forte senso di appartenenza nessun allarmismo quindi non ci sono motivi per lasciarlo andare sui attaccanti ha detto seguiamo le evoluzioni del mercato abbiamo un attaccante in meno e vogliamo prenderlo questo è il riassunto delle dichiarazioni di Beppe Marotta che interviene dopo quel non so se arresto di Vidal rifilato ai tifosi juventini appena atterrato a Torino dopo le vacanze è intervenuto quindi direttamente l'amministratore delegato della Juventus dicendo non c'è nessun allarmismo Arturo è stato frainteso quindi queste le rassicurazioni di Marotta andiamo a vedere invece per quanto riguarda le milanesi sul Corriere della Sera si parla del K.O. pesante del Milan con l'Olimpia Coss in amichevole inzaghi però non fa drammi l'esordio in Guinness Cup è da dimenticare per i rossoneri che sfiorano la traversa con Saponara in versione di campo alla fine e del Sharawi si fa un selfie con il tifoso autore di questa inversione di campo inizia però male l'avventura del Milan quindi nella Guinness International Champions Cup al BMO Field di Toronto i rossoneri di Pippo Inzaghi in formazione ampiamente rimaneggiata sono stati battuti per 3-0 dall'Olimpia Coss poco incisivo in attacco nonostante il tridente iniziale formato da Niang, Pazzini e del Sharawi in Milan si mostra fragile in difesa nel primo tempo va a segno Dominguez nella ripresa in gol Diamantacos e Buccialakis le reti dei greci ecco i rossoneri hanno colpito solo una traversa con Saponara Inzaghi dice i nazionali sono arrivati tre giorni fa e non potevano giocare ho già dovuto mettere Desciglio e Onda perché siamo numericamente in pochi sapevo quali erano i rischi siamo arrivati un giorno e mezzo fa e non ci siamo potuti allenare sapevamo che erano più avanti di noi di condizione risultati ora non possiamo guardarli io devo guardare la prestazione e quando ci saremo tutti saremo un'altra squadra però a concluso Inzaghi mi piace lo spirito che c'era e la voglia di tutti ancora Inzaghi ha valutato la prestazione dei rossoneri qualche occasione l'abbiamo avuta non siamo brillanti ma andiamo avanti ieri abbiamo avuto un viaggio dove siamo arrivati alle due di notte dopo una giornata piena oggi è importante che non si sia fatto male nessuno speriamo che per Saponara non sia nulla per Inzaghi nonostante il KO è importante fare questo torneo perché ci confrontiamo con squadre di alto livello e poi abbiamo tanti tifosi in America abbiamo fatto delle buone combinazioni e dobbiamo andare avanti questo sistema di gioco da possibilità di fare sovrapposizioni sulle fasce prendiamo gli aspetti positivi quelli negativi li miglioreremo quando saremo tutti sarà un altro Milan questa è la conclusione di Pippo Inzaghi all'esordio non proprio felice del Milan in questa competizione estiva con queste dichiarazioni ci fermiamo per un altro piccolissimo break torneremo presto in studio con altri approfondimenti dal web e ancora gli articoli più importanti sui quotidiani nazionali sportivi a fra poco